E forse in questo momento già hanno perso la vita, perché erano amanti di Gesù, perché i bambini si erano fidati di Lui e non sono scomparsi, sono risorti. Anche noi ogni giorno siamo chiamati a dare questa testimonianza, che la polvere di questo mondo non si attacchi a noi, ma riusciamo ad essere luminosi come Lui in mezzo a noi. Quindi pensiamo ai bambini, alle mamme, non solo stuprate, agli uomini accecati, ma alle croci rotte a colpe di mazza e di mitragliatrice, perché sono il segno dell'amore. E l'amore dà sempre fastidio, la vendettano purtroppo. Purtroppo è la logica di questo mondo e noi dobbiamo vingerla in silenzio. Pensiamo a bambini, donne e anziani che forse in questo momento stanno per dare l'anima a Dio, perché è cristiana. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.